mi sento un po bene gestrit è un po bene gestrit lo è infatti ci pensavo che va sempre bene si bagna un po il vestito è un problema cosa grazie 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 buongiorno grazie a tutti grazie grazie ok, un secondo ok buongiorno allora, non sono FMC Arte sono la teiera di Alice alias Celeste oggi facciamo una diretta un po' particolare come potete vedere stiamo facendo un set fotografico adesso appena mi faccio spiegare da Marina come si aprono i commenti e tutto il resto vedo se qualcuno ha scritto in chat allora non so se se qualcuno di voi sa qui sono una sorta di abiti teatrali costumi abiti d'epoca e l'anno scorso ho fatto una mostra di costumi che sto scattando pian pianino con varie modelle tra cui la nostra FMC Arte potete vederla che è in versione un po' bene Gesserit un po' un po' Lorenz d'Arabia mi posso risposto perché stanno facendo qui potete che vedo qui gustito mi sta facendo una specie di strega del deserto sì un granchietto allora Marina dunque io adesso ho la camera che punta verso di te ciao non so come si fanno a leggere i commenti della chat mi spiegherai penso sia girata dall'altra parte cioè devi guardarla in fronte ok guardarla così allora c'è uno spettatore non so che sia no c'è scritto uno spettatore sì sì allora puoi anche girare la camera mi sa come si fa? ci dovrebbe essere qualcosa però dopo non vedi magari i commenti quindi evidentemente usa questo per girarlo se vuoi far vedere ok quindi interessante comunque se ci siano sì mi sembra anche se usate di Star Wars in questo momento eh sì potrebbe essere sì su Tatooine su Batman io ogni tanto butto anche un occhio di là perché in questo caso sarebbe più facile qualsiasi ambiente ti metti va bene esatto eh sì in qualche pianeta qualche pianeta l'ambiente esisterà sì Thomas ti vuoi presentare anche tu velocemente alla chat a chi ci segue ciao salve sono Joachim adesso sto cercando di riuscire a tirare fuori qualche buona immagine questo bellissimo vestito ci riuscirà di sicuro perché è bravissimo per cui non abbiamo dubbi davvero mi sento un po' andala sì sì beh allora è stata parte dell'ispirazione diciamo che chiaramente l'ispirazione è stata un po' un po' gli abiti dei Tuareg infatti i colori un po' sono presi anche da quelli in qualche parte che è abbastanza vicina e lì pure abbastanza vicina in modo che non è un po' faccio vedere qualche dettaglio il vestito adesso si sistemano un attimino ok ecco qua scusate no no oddio che bello non c'è già molto corte però interessante vi ci avvicinate un altro po' se vuoi ti do una mano se vuoi ti do una mano occhio che è scivolosissimo vengo a darti una mano se vuoi quindi a piano ecco più o meno qua ti do una volta non la rifaccia anche al posto non la faccia pure da così stavi più restabile la porta ma vengo un attimo a sistemare il vestito scusate allora tieni un attimo per piacere vai mettiti stabile e poi ti ripasso la ok ed è un bene o un male se c'è bisogno se c'è bisogno cominci a fare ombre abbastanza forti anche sul viso rimani così oh che meraviglia rimani così intanto e poi mi giro io prendo le luci da di là rimani così se poi secondo te serve che ci spostiamo dimmi pure che cambiamo anche angolazione cambiamo location scegli di tua quali sono quelle più adatte ecco così la luce forse non è male che bella si è bellissima rimani così faccio un paio di primi piani e poi una figura intera se la fai rimanere ancora un po' così non è molto desertica ma è bella mi pare molto deserto no no che bello sì perfetto ti do una mano Marina mi pare si se la fai attenta la mamma deve tenere il vestito io riesco a appoggiarmi proviamo a farne vicino al tronco oddio ma c'è una medusa gigante che si è spiaggiata poverina ciccina non male che non hanno no ma mi sa che è andata non si muove neanche più poverina perché se non altro non hanno un sistema nervoso centralizzato e non sentono il dolore credo ma se non ha consapevolezza di ridículo di cose ce l'hanno magari molto che mi fioce ma sì sicuramente l'istinto tipo di fuga è così però le meduse non no beh no di qui no però cioè per esempio ho visto una una volta a Pantelleria che stava venendo presa da un granchio e lei si vedeva che si divincolava infatti l'ho salvata anche se poi ci ho pensato ho detto però magari poi il granchio muore di fame perché non ha potuto mangiare allora io non so come posso far vedere che meraviglia guarda e infatti volevo chiederti anche se potevi fare un dettaglio della parte dietro però no beh possiamo fare anche tipo un tre quarti così sì bella questa bella mi piace bella bella se serve mi metto a ventilare con qualche cosa non so non so se si riesce a prendere non so se si riesce a vedere dalla diretta qualcosa da dietro allora vediamo magari dall'altra parte le sistemo un attimo perché ci sono le code dietro da manta che un po' si si spostano stanno dietro qualche modo qua dietro la tronco poi ti giri un po' per questa linea aspetta anche perché non si veda la ci possiamo spostare da qualche parte poi casomai la cancelliamo da lontano può anche sembrare tipo un complesso di di pietre no no dall'altra parte ok cioè alla fine è tutto bianco un po' meno ah beh intanto una così e che si vede poco dietro vieni un po' più avanti e ti vedi il tronco se la linea proprio no 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 un po' più avanti vedi qua aspetta che sempre verso il tronco ma non è in punto sobbiamo